Agrilevante News. Tra i saloni specializzati presenti ad Agrilevante, ritorna in scena il MIA la multifunzionalità in agricoltura. Sì, ritorniamo per la seconda volta all'interno di questa affascinante manifestazione dedicata all'area del Mediterraneo. Torna MIA, tornano quest'anno i florovivaisti, tornano i dati, tornano gli elementi di formazione, andiamo oltre il 20% del prodotto interno lordo, quindi la multifunzionalità comincia a diventare un settore strategico per l'agricoltura in connessione a quelle che sono le attività primarie. La novità di quest'anno è che i vivaisti pugliesi, in questo caso, quindi grandi nomi del florovivaismo italiano, hanno deciso di partecipare a questo evento per un motivo molto semplice, che si è valorizzata la necessità di trovare anche mercati esteri e questa è una manifestazione che riesce a intercettare interlocutori del Nord Africa e dell'area del Mediterraneo. Cosa significa multifunzionalità in agricoltura? La multifunzionalità sono tutte quelle attività in connessione all'attività primaria che consentono all'imprenditore di andare oltre all'attività tradizionale, quindi con macchine personali normalmente utilizzate all'interno dell'impresa agricola è possibile fare attività di servizi, partendo dall'agriturismo, quindi l'ospitalità, la gestione del territorio. Oggi, un capitolo molto importante per il Paese, tutto il tema del dissesto idiogeologico, in un Paese che cementifica 100 ettari al giorno è evidente che il ruolo dell'agricoltura diventa importante anche dal punto di vista della gestione del territorio, non solo di quello produttivo. Sono trascorsi due anni della scorsa edizione, che cosa è successo? In termini di crescita del settore abbiamo avuto un incremento del 7%, in termini di evento fieristico abbiamo aumentato la superficie, siamo arrivati a utilizzare il verde anche per la costruzione delle sale conveni, quindi voglio dire una grande attenzione a questo capitolo e questo è sicuramente in un periodo come questo un elemento di grande positività.